Noi abbiamo nella nostra provincia un patrimonio incredibile dal punto di vista archeologico. In fondo da noi passa la Consolare Flaminia, la strada che i Romani hanno creato e realizzato nel 220 di Anticristo per portare i Romani dal Tirreno all'Adriatico, a Rimini. Lungo la Consolare Flaminia ci sono delle realtà straordinarie dal punto di vista culturale e turistico. Penso al Parco archeologico e al Museo Vernarecci di Fossombrone, peraltro il Museo Vernarecci è gestito da noi in convenzione con il Comune. Penso alla Fano Romana, quindi alla storia della Basilica di Vitruvio, alla città sotterranea, all'Arco d'Augusto, le mura romane più lunghe e meglio conservate dopo Roma. Penso a Pesaro, al Pisaurum, i mosaici del Duomo, al Domus di Via dell'Abbondanza, il Parco archeologico di Colombarone, la stella di Novilara, cioè noi abbiamo un patrimonio enorme, per non parlare poi dei bronzi dorati di Pergola. Pergola è il museo unico al mondo perché non esiste in nessun'altra parte del mondo un gruppo equestre di bronzo dorato primo secolo avanti Cristo di quelle dimensioni. Quindi è un patrimonio enorme che dobbiamo valorizzare. Poco valorizzato nel corso degli anni, noi l'abbiamo inserito come uno dei cluster più importanti all'interno del nostro progetto itinerario della bellezza. E insieme a queste rarissime eccellenze c'è poi tutto il percorso lungo la Flaminia, Cagli con il Museo archeologico, con il Ponte Maglio, c'è la sala dei mosaici di Saltara, il Mos, anche questa recentemente oggetto di un restauro, i mosaici e anche di una creazione di una sala immersiva, molto interessante. Penso alla grotta Ipogeo di Piagge, che non è del periodo romano ma poco importa, voglio dire, non sappiamo nemmeno cosa rappresentasse, probabilmente all'interno di questa grotta, che invito tutti a visitare, ci sono dei simboli religiosi, probabilmente in passato poteva essere anche una basilica paleocristiana, qualcosa del genere. Quindi abbiamo eccellenze straordinarie che possono portare tanti turisti nei nostri comuni se all'apertura dei musei abbiniamo anche un'attività di comunicazione, di promozione. Tenere aperti i musei, come fanno alcuni, stando seduti davanti alla porta, aspettare i turisti non serve a nulla. Noi abbiniamo alla gestione dei musei un'attività di promozione e di comunicazione che ha portato tanti risultati positivi, penso al fatto che ad esempio Fossombrone, da quando gestiamo noi in convenzione con il comune i musei, anche quello archeologico, oltre a collaborare con gli archeologi per il parco archeologico, siamo passati da 900 visitatori a oltre 5.000 visitatori paganti. La stessa cosa vale per Pergola, ovviamente. Quindi su questo noi ci stiamo lavorando. Abbiamo presentato la seconda edizione dell'itinerario archeologico a Pestum, versione rinnovata, e già stiamo lavorando all'edizione prossima, perché con l'inserimento nell'itinerario della bellezza di altri comuni rifaremo una nuova edizione per valorizzare anche questi altri luoghi.